Per quanto riguarda il Consiglio regionale della Lombardia, sono tutti nuovi candidati. Sono tre sindaci, il sindaco di Albavilla, Fermi, il sindaco Saladini di Cernobbio, il vice sindaco di Cermenate, Bernardi Federica, e poi abbiamo il vice coordinatore, Tambini, e un giovane universitario. Credo che abbiamo fatto una scelta importante, una scelta adeguata alle necessità del rinnovamento che i nostri elettori ci hanno chiesto. Per quanto concerne Como, si tratta di un'attenzione all'impresa, all'impresa, allo sviluppo delle imprese, l'artigianato, il commercio, il turismo. Io credo che Como rappresenti una delle perle della Lombardia, soprattutto col suo lago, e si concentreranno sicuramente in quelle che possono essere le necessità territoriali. Le conoscono bene, ci vivono giornalmente, conoscono quali sono i problemi dei loro cittadini e potranno rappresentare al meglio proprio queste istanze. Per quanto riguarda i candidati al Parlamento abbiamo Gaddi, che devo dire si presenta per la città di Como, alla Camera dei Deputati, e abbiamo l'Avvocato Sala, che è candidato al Senato. Non è un numero, come dire, in questo momento che può essere considerato vincente, ma ha buone e grosse possibilità. Ha parlato con il Presidente Berlusconi anche di questi nomi? Sicuramente sì. Berlusconi è entusiasta delle candidature che abbiamo messo in campo e devo dire che le sostiene con convinzione e con soddisfazione.